E se la bellezza fosse dove non immagini? Abbiamo imparato a proteggerci, a prenderci cura di noi e degli altri. Ci siamo guardati dentro. Ora è il momento di uscire fuori. Ora impariamo a respirare di nuovo, a sentire il mare, ad assaporare il sole, a toccare la storia, la bellezza non è mai andata via. È rimasta qui ad aspettarvi. Semplice bellezza. Sei a Termoli.